Benvenuti ad una nuova edizione della Tg L'Aquila di TV6. In apertura parliamo della sequestro conservativo di beni relativi all'inchiesta post-sisma che ha investito l'allora gestione della Confartigianato Abruzzo sulla presunta distrazione di fondi destinati alla formazione. Il servizio. È stato eseguito dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila un sequestro conservativo per un importo di 121 mila euro emesso su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti del Capoluogo dalla sezione giurisdizionale per l'Abruzzo. Il sequestro patrimoniale trae origine da un'indagine svolta dai finanzieri coordinati dalla locale Procura della Repubblica finalizzata ad accertare presunte condotte fraudolente connesse all'erogazione di fondi nazionali destinati alla formazione professionale. L'investigazione di polizia giudiziaria era diretta ad accertare in particolare il regolare impiego del contributo percepito dalla Confartigianato, imprese della provincia dell'Aquila, che nel 2011 aveva ottenuto dei finanziamenti pari a 205 mila euro per l'erogazione di alcuni corsi di formazione professionali finanziati dalla Confartigianato di Roma nell'ambito del progetto denominato Formazione a favore delle imprese e dei lavoratori aquilani colpiti dal sisma del 6 aprile del 2009. Le indagini di polizia giudiziaria sviluppatesi attraverso complesse analisi documentali e l'assunzione di testimonianze da parte dei docenti, amministratori e dipendenti di aziende coinvolte nella realizzazione dei corsi di formazione hanno permesso di raccogliere numerosi e gravi indizi di responsabilità nei confronti degli amministratori protempore di Confartigianato l'Aquila. Questi, al fine di rendicontare parte delle spese sostenute per le attività formative, predisponevano alcune note riferibili alle prestazioni di docenza e tutoraggio che di fatto non erano mai state eseguite o eseguite solo in parte, ovvero ancora svolte in modo difforme da quello rendicontato. Al termine delle indagini sono stati pertanto deferiti alla locale autorità giudiziaria il legale rappresentante, unitamente all'amministratore delegato della Confartigianato di L'Aquila, resisi responsabili del reato di truffa e danni dello Stato. La Procura regionale della Corte dei Conti ha poi ritenuto le condotte contestate agli indagati generatrici di danno erariale e ha messo così il provvedimento di sequestro conservativo notificato dai finanzieri in questi giorni, finalizzato a garantire il ristoro patito dallo Stato in conseguenza della truffa accertata. Andiamo adesso in Regione. Questa mattina in quinto consiglio un'importante proposta di legge per il riordino del piano sanitario abruzzese come previsto dal decreto Lorenzin. Tutti particolari nel servizio a cura di Filippo Tronca. Ridimensionamento di interi ospedali pubblici e privati, accorpamento di reparti, cancellazione di specialità, ospedali top class solo per bacini di utenza oltre 600 mila abitanti. Una rivoluzione insomma per vista dal finigerato decreto 70 del ministro Beatrice Lorenzin. Anche l'Abruzzo con la sanità per di più commissariata si dovrà adeguare. Ma è mistero sulla proposta che il commissario Luciano D'Alfonso, il presidente della Regione e l'assessore alla sanità Silvio Palucci hanno inviato al governo. Da qui la richiesta delle opposizioni di conoscere almeno il contenuto di questa proposta e di discuterla in aula, anche se il Consiglio non ha su questa materia potere decisionale. E così oggi in quinta commissione audizione per Paolucci e il direttore dell'agenzia sanitaria regionale Alfonso Mascitelli. Che però di scoprire tutte le carte non ci pensano nemmeno, conferma ai nostri microfoni, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri e il consigliere di Forza Italia Gianni Chiodi che sottolinea da ex commissario della sanità che l'Abruzzo come le Marche potrebbero anche non applicare il devastante decreto Lorenzin. Ad oggi non sappiamo ancora niente, questo piano di riqualificazione non è arrivato in forma scritta, ci dicono che è soltanto una chiacchierata che facciamo con l'assessore, noi riteniamo che avremmo dovuto avere almeno un'idea prima di cominciare questo incontro su quello che sarà il futuro della sanità. L'Abruzzo oggi può uscire tranquillamente dal commissariamento perché ha raggiunto l'equilibrio di bilancio ormai da diversi anni e perché ha raggiunto anche il punteggio minimo per i livelli essenziali d'assistenza, l'ha raggiunto nel 2014, certificato nel 2015. Quello che a noi non va bene è un'applicazione così supina, veramente supina, a quelli che sono il decreto Lorenzin che anche le altre regioni italiane vedrete che non applicheranno in maniera facile. Tenga conto che per noi sarebbe un danno fortissimo nel momento in cui dobbiamo andare a ridurre una serie di presidi. L'Abruzzo non avrà nessuna DEA cosiddetta ospedale di secondo livello, cioè gli ospedali migliori e questa è un'ambizione che l'Abruzzo non deve, come dire, tralasciare. Le altre regioni avranno DEA di secondo livello, l'Abruzzo non avrà DEA di secondo livello. Passiamo adesso alla comune dell'Aquila. Sembrava il momento della verità sui contratti dei precari. A sorpresa invece questa mattina l'assessore Betti Leone e l'ha detta la dirigente al personale Ilda Coluzzi hanno disertato l'incontro. Tutti particolari nel servizio a cura di Antonella Calcagni. La questione dei precari approda in commissione garanzie e controllo. Assente ai lavori l'assessore Betti Leone e la dirigente al personale Ilda Coluzzi. Di fatto la seduta è servita solo per ripercorrere le tappe di questa spinosa vicenda alla presenza di lavoratori e sindacati. L'amministrazione tuttavia non si schioda, il rischio di danno erariale persiste. Il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti cerca di fare chiarezza. Anche il sottosegretario Di Micheli non so che lavoro faccia nella vita ma dovrebbe sapere per il ruolo istituzionale che riveste che un governo non ha bisogno di fare mail, conferenze stampa e articoli sul giornale per esplicitare la propria posizione. Qualsiasi entità e istituzione amministrativa si muove per atti, deliberazioni, determine le istituzioni di rango comunale e provinciale e quelli di rango regionale e nazionale possono fare leggi, regolamenti, decrete di legge, decrete del Presidente della Repubblica, almeno circolari interpretative come fanno anche la gran parte degli enti, per esempio l'Inps, l'Inail, su questioni legate ad interpretazione di legge. Che la Di Micheli faccia come è nelle sue facoltà. È anche un suo dovere, una circolare interpretativa che mette a riparo questo comune dalla possibilità di creare un danno contabile e della possibilità anche di commettere un reato. Lo spettro della Corte dei Conti continua ad essere agitato dall'inizio di questa vicenda. Il danno contabile tuttavia potrebbe aggiungersi anche il rischio di un precedimento penale. Il parere è contrario perché dalla lettura di quanto previsto dal Jobs Act, a parte la suggestione del nome inglese, comporta alcune problematiche di questo tipo che incidono su situazioni come il lavoro precario, anzi soprattutto sul lavoro precario impedisce la proroga ad nutum, diciamo, di questo tipo di contratto. Il lavoro precario è un lavoro, i lavoratori hanno sottoscritto un contratto a termine e sapevano benissimo che sarebbe cessato. Ovviamente siamo tutti per prorogare i contratti, siamo tutti per permettere occasioni di lavoro, ma non è pensabile che il comune vada contro l'Egem per favorire una categoria o per far piacere ai sindacati, insomma è evidente. Restiamo sempre in comune all'Aquila. Con il personale in pianta organica il comune non riesce a gestire nello stesso tempo amministrazione ordinaria e ricostruzione. Ieri mattina il sindaco Massimo Cialente ha lanciato l'allarme spiegando al capo della struttura di missione, Giampiero Marchesi, che non ci sono i soldi per pagare i tecnici accordati dalla legge, in quanto l'USDRA ha solo 1.300.000 euro per spese generali e addetti. Se la situazione non dovesse essere modificata, spiega il sindaco, potremo avere questi rinforzi solo a febbraio 2016. Del resto sono questi i tempi delle delibere Cipe. Marchesi, a nome del governo, si è però detto disponibile a concedere un anticipo per poter prendere subito figure tecniche. Parliamo adesso di provincia con una notizia di cronaca Auto Blu per uso personale. Amorosi ha processo. Il GUP del Tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio con le accuse di peculato, truffa e falso il dirigente della provincia dell'Aquila, Tiziano Amorosi. Coordinata dal Pubblico Ministero Stefano Gallo, l'indagine con Amorosi imputato principale, è una costola del procedimento che vede sei indagati tra dirigenti funzionari e autisti della stessa provincia sotto accusa per l'illecito utilizzo delle autovetture di servizio. Parliamo di università. A sorpresa, nonostante le difficoltà post-sisma, l'Ateneo Aquilano risulta tra i primi dieci in Italia. Daniela Rosone. L'Aquila è tra le dieci città universitarie italiane più amate dagli studenti. L'articolo è a firma di Antonella Finucci ed è uscito da qualche giorno su Skyscanner, un sito che si occupa molto di turismo, di viaggi, di bei luoghi da visitare. Sono dieci le città inserite nella classifica, città amate che restano particolarmente nel cuore degli studenti che tra le mura di dipartimenti oppure tra vicoli e piazze cittadine le hanno vissute intensamente. Accanto a Parma, Perugia, Roma, Padova, Bologna, Napoli, Torino, Pavia e Venezia figura anche l'Aquila. L'Aquila, soprattutto prima del terremoto, ha sempre attirato un gran numero di studenti perfettamente integrati e calati nella vita e nella realtà cittadina, molti dei quali hanno scelto qui di stabilirsi, di vivere e lavorare nei suoi luoghi di studio e di divertimento. Forse prima del sisma? Sicuramente le cose d'aprile 2009 ad oggi sono cambiate notevolmente, anche se si sta facendo di tutto affinché questa città possa restare una città a vocazione universitaria. Nell'articolo la giornalista fa riferimento certo anche al sisma di aprile 2009. Irrimediabilmente ferita, scrive riferendosi all'Aquila, ma questa città non delude mai. Bene, apriamo adesso la pagina dedicata allo sport con l'Aquila Calcio che si prepara all'attesa e delicata sfida di sabato al Fattori contro il Savona. Nel prossimo servizio conosciamo meglio l'avversario dei Rosso Blu. Quello di sabato sarà un vero e proprio scontro diretto per l'Aquila che ospiterà il Savona, fanalino di coda a meno 5, complice anche la penalizzazione in classifica. La formazione di Giancarlo Riolfo ha perso nell'esordio stagionale con il Teramo lo scorso 26 settembre ed è reduce da soli 9 minuti giocati domenica contro l'Arezzo a causa dell'infortunio dell'arbitro di gara che ha comportato il rinvio della contesa. Al Fattori arriverà quindi una squadra pronta a chiudersi pur di strappare un prezioso punto dall'Abruzzo. Toccherà agli uomini di Carlo Perrone dare finalmente una scossa all'ambiente dopo tre stop consecutivi, tornando a fare punti proprio contro una delle dirette concorrenti alla volata salvezza. Anche le statistiche sorridono all'Aquila che ha vinto per 1-0 la sfida dello scorso anno grazie al gol di Salvatore San Domenico. Restiamo sempre in tema l'Aquila Calcio dopo la partnership stipulata nelle settimane scorse con l'area Subuto e arriva un'altra importante collaborazione stavolta con l'area L'Aquila Futsal, club di calcio a 5 che milita nel campionato di Serie C1 e che giocherà da ora in avanti con le maglie dell'Aquila Calcio. I particolari li scopriamo nel prossimo servizio. Progetto di affiliazione tra l'Aquila Calcio e l'area L'Aquila Futsal, club di calcetto che milita nel campionato regionale di C1. Così come era già accaduto qualche settimana fa con l'area Sport Subuteo, il Sodalizio Aquilano ha allargato le partnership in vista di importanti progetti di sviluppo futuri. L'area Futsal, in particolare la prima squadra l'Under 20 e l'Under 18, giocheranno dunque nei rispettivi campionati con la maglia dell'Aquila Calcio. Soddisfatti il presidente del settore giovanile rosso-blu Fabrizio Rossi e il giocatore della Futsal Davide Mastropietro. Questo è uno dei progetti che portavamo noi come società all'inizio della stagione di fare affiliazioni con altre società e anche altri sport. Siamo riusciti inizialmente a farlo con il Subuteo e adesso lo facciamo con l'area L'Aquila Futsal e abbiamo fatto questa affiliazione ringraziando poi i principali attori che sono Davide Mastropietro, Danilo Valloni, Pierluigi Domei e tutti gli altri ragazzi che ci hanno dato questa disponibilità a fare questa nuova avventura. Noi facciamo un campionato di C1 regionale, di Juniores, quindi Under 18 e Under 21. Sarà bello oltre ad essere un onore per noi. Dobbiamo ringraziare Fabrizio Rossi per questa iniziativa che ci dà questa opportunità e la indosseremo con voglia e passione. Chiudiamo la pagina dedicata all'Aquila Calcio ricordando che è il mese della prevenzione del tumore al seno. Il Club Rosso Blu si allea con la Lilt promuovendo insieme alla sezione provinciale una campagna di prevenzione per tutte le donne. Nel mese di ottobre si potrà prenotare una visita completamente gratuita nell'ambulatorio in Via Antica Rischia telefonando al numero 0862580566. Bene, era la nostra ultima notizia. Il Tg L'Aquila finisce qui. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. A tutti voi un buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.